Buongiorno, questa è la rassegna stampa in breve di video 33, oggi martedì 15 dicembre, cielo sereno su tutto il territorio provinciale con possibilità di qualche nube in transito. Andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo in edicola, iniziamo con il Corriere dell'Alto Adige, fondi UE, rilancio dopo il caos, il piano 136 milioni in 5 anni, con Pacer vogliamo ridiventare i migliori, sociale Spadon, grande attenzione al raggiungimento degli obiettivi, arretrati 172 rendiconti da controllare. Nella fotonotizia lo sport, piste pronte, innevamento artificiale, sci e cannoni salvano la Coppa del Mondo. E poi nella cronaca giudiziaria negli interni, indagine, tenti, round alla difesa, l'udienza slitta. Passiamo al quotidiano Alto Adige, autisti nel mirino della SAD, il direttore Vettori, altro che sciopero, lavorino di più. Poi anche qui la cronaca giudiziaria in primo piano, 20, l'indagine su Spagnoli s'allarga alle varianti e la difesa porta un dossier di 100 pagine e nella fotonotizia le storie di Natale, il Natale in carcere, fra dolori e sorprese la visita del Vescovo Muser. Passiamo al quotidiano Dolomitten, con il semestre d'oro per il mercato del lavoro, disoccupazione al 3,2%, gli occupati sono in crescita e nella fotonotizia europea da il campionato di calcio riservato alle selezioni delle minoranze linguistiche europee sarà ospitato in Alto Adige dal 18 al 26 giugno tra Val Gardena e Val Pusteria. Passiamo al quotidiano Tagest Zeitung, deve saper parlare tedesco il sindaco di Bolzano sia da un punto di vista linguistico ma soprattutto da quello politico, quanto è fondamentale un candidato che strizzi l'occhio al gruppo SVP. Bene, con questo ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.